Noi stiamo continuando un percorso che ci vede adesso con una formazione politica differente ma tutto saremo tranne che ex perché i principi del movimento sono pienamente vivi dentro ognuno di noi e quindi siccome sono i principi quelli che ci hanno sempre spinto a fare politica e fare attività sempre all'interesse collettivo credo che questo sia l'unico appellativo che accetto un portavoce prestato all'istituzione per portare all'interesse dei cittadini.